Buongiorno, l'associazione agenti e mediatori marittimi ha voluto partecipare a questo interessante evento delle Blue Skills perché crediamo fortemente nel fare rete con tutte quelle che sono le realtà del mondo marittimo e dello shipping. Assagenti rappresenta 110 aziende che fanno il mestiere sia dell'agenzia marittima sia della mediazione marittima. Ci interessava fare una testimonianza su quelle che sono le nostre professioni per dare un messaggio sul fatto che nel nostro settore i giovani trovano lavoro e quindi portare una testimonianza su quelle che sono le opportunità che anche Assagenti dà ai giovani per essere inseriti nel mondo del lavoro.